Ecco, è uno dei più amati in assoluto, ha vinto l'attenzione d'Italia, signore e signori, Ivana Basso! Ivana, buongiorno a voi, buongiorno a Ivana, il pubblico vuole sapere senz'altro la tua condizione oggi se cercherai l'attacco magari sulle arme più impossibili di queste ore, pure in sua mano. Innanzitutto è una cosa molto bella, è una cosa importante come Lombardia, siamo una squadra che sta in buona forma, 4-5 atleti che pedalano molto bene, quindi cercheremo di muoverci al meglio nella seconda parte della corsa e vediamo. Bocca al lupo, l'applauso, Ivana Basso, grazie Ivana!